Al Salone del Risparmio 2018 siamo con Riccardo Cervellin, amministratore delegato di Gamma SGR Italia. Dottor Cervellin, quali sono i temi che avete portato quest'anno al Salone? I temi sono legati alla tecnologia, alla disruption tecnologica che assistiamo in questi ultimi anni. Noi sappiamo che c'è una legge di Moore che dice che ogni 18 mesi la potenza di calcolo e di memoria raddoppia. A questo si aggiunge un altro fenomeno di cui non c'è una legge che lo quantifichi ma che è la produzione di dati. IBM stima che oggi negli ultimi due anni sia stato prodotto il 90% di tutta l'informazione prodotta in tutta la storia dell'umanità. Quindi c'è una mola di dati incredibile che peraltro sta aumentando. Qualcuno la chiama il nuovo petrolio, in realtà non è nuovo petrolio perché il petrolio si esaurirà, l'informazione invece se prosegue con questo trend aumenterà sempre di più. Detto questo è evidente che all'interno dell'informazione e della tecnologia ci sono delle opportunità che l'industria dell'asset management non può lasciarsi scappare. In particolare il tema degli investimenti attraverso algoritmi, attraverso elaborazioni di dati testuali o numeriche assumeranno un'importanza sempre più rilevante. Noi in questo senso abbiamo da 10 anni una strategia che ha 5 miliardi, anzi un insieme di strategie hanno 10 miliardi di asset under management che si occupano proprio di gestire attraverso lo sviluppo di modelli che i 35 scienziati che stanno fra Cambridge e Londra sviluppano, modelli che vengono poi implementati attraverso algoritmi e che evitano tutti quanti i bias comportamentali tipici dell'umano. Grazie dottor Cervellini di essere stato con noi. Grazie a lei, arrivederci.